Com'è allora? Che vuoi che sia? Non si capisce un cazzo? Sanguinetti di merda, avanguardie di merda, poesia di merda Vabbè dai, Petrarca, allora Diciamo una cosa, non rompere le palle, studiatelo così almeno giriamo Avanguardia Cordamis volume 2 Come Tarantino, volume 1 e volume 2 Va bene, ok, come Tarantino, ok Però maestra cosa non ha già rotto Perché noi potremmo stare qui a fare delle cose molto più utili Tipo studiare storia contemporanea Visto che storia contemporanea ce l'abbiamo tra due settimane E invece no, sono qua a leggere sto gruppo 63 del cazzo Per fare un video che poi comunque alla fine non si guarderà nessuno Che cosa hai detto però? Che video non lo guarda nessuno? No, prima Gruppo 63 del cazzo? Prima ancora Storia contemporanea Stavolta sbanchiamo, Lula Stavolta sbanchiamo Stavolta sì Ha, 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 ha Com'è allora? Si capisce il cazzo? Eh, no, lei Coglione Stavolta sbanchiamo, Lula Stavolta sbanchiamo, Lula Stavolta sbanchiamo, Lula